Senza Dio non si può fare nulla, lo Spirito Santo unisce mentre il maligno divide. Papa Francesco ha usato un linguaggio schietto per stilare un catalogo delle malattie che oggi possono colpire il corpo della Chiesa. Nel corso di quello che è definito uno stimolo e un esame di coscienza per prepararsi al Natale, il Pontefice ha parlato della Curia come di un corpo soggetto a tentazioni, pericoli che lo allontanano dalla vocazione al servizio a diffondere la gioia del Signore. Quante volte infatti presi dalle tante occupazioni quotidiane si cade nel cosiddetto martalismo, perdendosi la cosa migliore, ossia sedersi ai piedi di Gesù. Una tentazione che si espande lasciando crescere il pensiero del sentirsi immortali, immuni, indispensabili. Una Curia che non cerca di migliorarsi, ha chiarito Papa Bergoglio, è un corpo infermo e l'antidoto a questa malattia è riconoscere di essere servi inutili. Invitando tutti a non chiudersi all'opera dello Spirito Santo, che non può essere addomesticato, il Pontefice ha parlato poi di quei commercialisti del lavoro che si nascondono dietro le pratiche, perdendo la vivacità interiore e pietrificando poco a poco il cuore. Un itinerario di impoverimento che può portare all'Alzheimer spirituale, quando si dimentica il primo amore e si diventa schiavi degli idoli scolpiti con le proprie mani. Con forza Papa Francesco non ha dimenticato di enumerare altre realtà che sfigurano il viso della sposa di Cristo, dalla malattia della rivalità, che può diventare un cancro con la pratica dei gruppetti chiusi, fino alla malattia della schizofrenia esistenziale, di chi vive due vite, passando per la malattia dell'indifferenza del prossimo, di quella della faccia funerea, del rigore, il cui antidoto è una buona dose di sano umorismo. Con precisione chirurgica, Papa Francesco ha infine ricordato che la malattia dell'accumulare è una povera illusione perché il sudario non attasche e che la malattia delle chiacchiere può trasformare le persone in assassini. La malattia delle chiacchiere, delle mormorazioni e dei pettegolezzi, di questa malattia ne ho già parlato tante volte, ma mai abbastanza. È una malattia grave, che inizia semplicemente, magari solo per fare due chiacchiere, e si impadronisce della persona facendola diventare seminatrice di zizzania, come Satana. E in tanti casi omicida a sangue freddo della fama dei propri colleghi e confratelli. E la malattia delle persone vegliacce, che non avendo il coraggio di parlare direttamente, parlano dietro le spalle. San Paolo ci ammonisce, fatte tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri. Fratelli, guardiamoci dal terrorismo delle chiacchiere.